Marco Condidorio sta per partire l'iniziativa promossa dall'Associazione di Sabbi Divisivi Molise denominata Summer Braille. In cosa consiste? Intanto consiste in un percorso di formazione per docenti curricolari, per docenti sul sostegno e per tutte le persone che a vario titolo affiancano persone non vedenti, studenti, alunni. Quindi è un percorso intanto che si divide su tre piani, la segnografia Braille, le tecniche di accompagno e un software didattico per l'insegnamento della matematica. Quindi in sostanza partiranno dei corsi, cioè sono stati organizzati questi tre corsi. Come si svolgeranno? I corsi si svolgeranno in presenza qui presso il centro studi e sono ovviamente organizzati a piccoli gruppi in modo tale da consegnare delle competenze a chi li frequenta perché queste competenze sono quello che preme a noi come associazione di disabili visivi, ma soprattutto a me come persona che tiene alla formazione del docente perché è di garanzia per lo studente, per l'alunno che si trova affiancato da una persona con competenze. Quindi diciamo che il valore di questa iniziativa è proprio nella formazione, nell'avvicinarsi comunque alle difficoltà degli altri. Certamente, perché una persona che vive in condizioni di disabilità non è diversa da chi non ha nessuna disabilità. È una persona che ha dei diritti, è una persona che ha delle difficoltà nello studio come chi vede. Queste sono tuttavia amplificate nel momento in cui per imparare a leggere e scrivere deve utilizzare un codice differente da quello di chi vede. E questo però comporta avere accanto persone con competenza perché se l'insegnante o l'educatore o l'assistente alla comunicazione non conosce la segnografia Braille, non conosce la didattica della segnografia Braille, lede il percorso di studi della persona con disabilità visiva rendendolo un emarginato diciamo alla seconda. Sì, sì, l'iniziativa è gratuita, quindi l'iscrizione è gratuita ed è gratuita ovviamente la partecipazione. C'è ancora la possibilità di iscriversi, tuttavia spero di non dover raggiungere numeri troppo alti paradossalmente perché poi bisogna ovviamente suddividere le persone in piccoli gruppi. Credo non più di tre, massimo quattro a gruppo perché ripeto la didattica e gli apprendimenti legati all'alfabetizzazione Braille sono abbastanza importanti e richiedono insomma un apprendimento diretto il più possibile.